Buongiorno, qui è un po' pieno eh? Certo, purtroppo non è adeguato alla mole di rifiuti che si vengono a creare. Quindi lei quando viene qui a volte trova i bidoni pieni? Tanti, tante volte. Spesso trova i bidoni pieni? Assolutamente. Con questo però dobbiamo segnalarlo, lo diciamo ad AIM, AIM bisogna aumentare il numero dei bidoncini perché i cittadini si lamentano. Almeno uno in più. Almeno uno in più. Se ne vogliono tra quattro ecco. Noi prenderemo a cuore i punti più delicati, i punti di emergenza che nella città ci sono e che voi avete evidenziato con i vostri servizi. Il nostro obiettivo in questo momento è proprio di verificare se possono essere posti più cassonetti laddove è assolutamente necessario. AIM ci aveva promesso che avrebbe valutato zona per zona dove aumentare il numero dei bidoncini. Qui evidentemente ci troviamo davanti all'antica chiesa di San Giacomo. È il caso di aumentare il numero dei bidoncini. Lo dicono i cittadini eh? Assolutamente, assolutamente. Alt, fermiamoci qui e torniamo a invitare AIM a fare urgentemente quello che aveva promesso. Il nostro obiettivo in questo momento è proprio di verificare se possono essere posti più cassonetti laddove è assolutamente necessario.